Buongiorno a tutti, oggi siamo con gli amici di Malnate.org che ci hanno chiesto delle delucidazioni rispetto a delle problematiche che sono avvenute all'interno della discarica di Malnate nelle settimane passate. Per cominciare facciamo una piccola premessa rispetto ai servizi in concessione dell'igiene urbana che come saprete hanno visto la scadenza del precedente appalto il 31 dicembre del 2022, precedente appalto che è stato prorogato con una proroga tecnica di sei mesi fino al 30 giugno del 2023. Il 1 luglio del 2023 il precedente concessionario ha vinto la nuova gara di appalto, è rimasto quindi il concessionario della gara precedente ed è iniziato un nuovo appalto di gestione dei rifiuti. In accordo fra l'amministrazione e il concessionario si è deciso che vista la scadenza a metà del presente anno ci sarebbe stato un'ulteriore fase transitoria di sei mesi fra il 1 luglio del 2023 e il 31 dicembre del 2023 prima dell'entrata in vigore delle novità che riguarderanno l'appalto stesso di igiene urbana e che saranno nelle debite sedi e nelle sedi opportune comunicate puntualmente alla cittadinanza. Veniamo adesso però alla questione che ci ha portato qui oggi che è appunto legata alle problematiche all'interno della nostra discarica. Uno degli obiettivi del nuovo appalto di igiene urbana riguarda anche la riduzione degli ingombranti, riduzione che avverrà attraverso la divisione migliore e più puntuale della frazione che finisce all'interno degli ingombranti con l'aggiunta che avrete visto, vedrete non appena accederete all'ecocentro fra ingombranti, plastica dura e vetro e anche rispetto ad un maggiore controllo di quello che è il conferimento all'interno del cassone degli ingombranti. Questo perché c'è stata purtroppo una presa di coscienza a seguito di diverse verifiche di qualche cittadino che utilizzava il cassone degli ingombranti come se fosse il sacco nero di casa andando a conferire quindi materiale non idoneo. Questo ha portato ad una maggiore attenzione da parte dei tecnici attivi all'interno della piattaforma ecologica rispetto a ciò che viene conferito e questo ha portato ad alcune problematiche che sono state segnalate sia all'amministrazione che agli uffici rispetto a discrepanze fra quello che veniva accettato all'interno dei cassoni degli ingombranti e quanto segnalato all'interno del riciclabolario presente sul calendario della raccolta. Gli uffici e l'amministrazione hanno più volte incontrato il concessionario sia all'interno della piattaforma sia all'interno degli uffici comunali e si è deciso di comune accordo di arrivare all'interno di questo periodo transitorio di sei mesi a cui facevamo riferimento prima al fatto che all'interno del cassone degli ingombranti e all'interno della piattaforma ecologica vengano ricevuti tutti quei materiali che è previsto vengano ricevuti secondo quanto indicato dal riciclabolario presente sul calendario che ogni cittadino di malnate ha ricevuto all'interno a casa sua. A seguito di questo periodo transitorio a cui facevamo riferimento prima di sei mesi nelle case dei malnatesi verrà riconsegnato il calendario per la raccolta relativo all'anno 2024 all'interno del quale sarà come sempre contenuto il classico riciclabolario che segnerà puntualmente dove ogni tipologia di rifiuto vada conferito e questo come sempre continuerà a far fede. Laddove ci dovessero essere delle modificazioni sostanziali rispetto a quanto previsto in precedenza queste verranno ovviamente decise di comune accordo fra amministrazione e concessionario e saranno comunicate puntualmente in eventi pubblici nei quali daremo ovviamente comunicazione di quelle che saranno le novità relative alle eventuali novità relative all'appalto e al conferimento dei rifiuti. Le problematiche che ci sono state segnalate e per le quali ci scusiamo con la cittadinanza ovviamente pongono l'accento su un tema che è molto caro all'amministrazione, ossia il fatto che ci siano dei conferimenti non conformi. Purtroppo abbiamo avuto la conferma anche all'interno dei conferimenti degli ingombranti così come abbiamo molto spesso conferma di conferimenti non conformi all'interno ad esempio dei cestini della città. L'amministrazione in questo senso si muove sempre puntualmente rispetto al tentativo di individuare chi siano gli autori di questi conferimenti non conformi. Settimanalmente vengono controllati all'interno della piattaforma ecologica dai dipendenti comunali i conferimenti non conformi e la polizia locale eleva le sanzioni laddove vengano individuati i cittadini che non hanno rispettato quelle che sono le regole previste dall'appalto di igiene urbana. Ovviamente questa fetta di cittadini è una fetta molto piccola all'interno della città di Malnate e noi speriamo che si riduca ulteriormente e che si possa proseguire in una gestione per quanto riguarda i servizi di igiene urbana eccellente come sempre stata sul comune di Malnate.